Ve lo dico io, il liceo è il buco nero della vita di ogni adolescente. Appena ci entri inizia a crollare tutto, perché loro parlano, parlano in continuazione, ma non ne sanno niente. Non hanno la sensazione di camminare e sentirsi gli occhi addosso. Non sanno che sì, fa male, non sanno e basta, perché la scuola così fa schifo. Avere degli amici è difficile e ogni attimo ti senti morire un po' di più. Pensavo di essere sola, ma mi sbagliavo, perché come me ce ne sono a milioni, sparsi in tutto il mondo, nascosti. Ci siamo sentiti invisibili, sbagliati. Eravamo sul punto di mollare. Ma non è così che si fa. Non questa volta. Adesso tocca a me e sto arrivando. Potremmo avere tutto quello che abbiamo sempre voluto, tutto quello che abbiamo sempre cercato. Ed è qui, di fronte a noi. Ora sono io quella coraggiosa. Mi dispiace per i tristi vincenti tra voi che sono il massimo al liceo e che ci danno degli sfigati. Ma il vostro stramaledettissimo tempo sta per scadere. Vi sono rimasti circa dieci minuti. Godeteveli. Mi chiamo Valeria e questa è la mia storia. Questa sono io. Sì, sono una sfigata. E state pronti. Stiamo venendo a prendervi. E saprete cosa vuol dire essere un loser. Grazie a tutti.